Il nostro è un viaggio tra i paesi montani del Terramano dopo 12 giorni dalla grande nevicata e dall'ultimo sisma. Un'apocalisse, come la descrivono in tanti qui a Cerchiara o a Isola del Gran Sasso, dove i residenti sono rimasti intrappolati dentro le proprie abitazioni, sommersi da tre metri e mezzo di neve, senza poter aprire la porta di casa, nonostante le fortissime scosse di terremoto e senza energia elettrica per nove giorni. Una tempesta perfetta che lascia distruzione e dolore, ora è tutto da ricostruire, neve e terremoto insieme. Neve e terremoto insieme è stata una cosa paurosa, proprio la mattina mi sono alzata, prima si sono abbassati un po' i gazebo, poi appena fatto il terremoto si sono schiacciati e io stavo qua, non potevano uscire nemmeno dalla porta perché la neve era altissima. Qui è tutto chiuso a San Gabriele, quando riapriranno i negozi secondo lei? Non lo sappiamo, non lo sappiamo, ancora non sappiamo niente. Che vi hanno detto? Di aspettare e vediamo un po'. La luce? La luce l'abbiamo avuto dopo nove giorni. E nove giorni come avete fatto? Con le candele, con le candele e basta, non si parlava né a telefono né con niente, noi non sapevamo niente. Cosa avete passato in questi giorni? Allora abbiamo passato un momento apocalittico, tre metri di neve, col terremoto, non potevamo uscire fuori, senza luce, senza riscaldamento, senza linea di telefono, proprio guarda è stata una cosa, io credevo che era arrivata la fine. I rigoriferi pieni si sono rovinati tutti, perché la luce è stata via quasi una settimana. E adesso che cosa chiedete voi? Chiediamo di interrompere i pagamenti almeno per un po' di tempo, che ne so, che venga qualcuno a vedere i danni che hanno fatto, però qui non viene nessuno. Ritardi nei soccorsi, pali elettrici vetusti, infrastrutture viarie fragili hanno causato disagi inenarrabili a queste popolazioni dell'entroterra Terramano. È vero che le previsioni meteo avevano annunciato nevicate abbondanti, ma ascoltando la gente del luogo si scopre che a memoria di nonni un fenomeno così imponente non si era mai verificato. Signora, lei è di Isola del Gran Sasso, in tanti anni mi diceva che non aveva mai ricordato una nevicata così grande. Non lo ricordo, insomma, pure da bambina, ma ne poteva fare di meno, mezzo metro, diciamo mezzo metro. Una nevicata così è eccezionale? Sì, sì, così mai, io non l'ho mai ricordata, ma non solo io, ci stanno persone di 80 anni mai ricordate una neve di questa. Qual è stato il disagio più grande che avete subito in questi giorni? Che mancava la luce. Gli hanno detto perché è mancata per tutto questo tempo? La luce manca sempre, quando si fa un po' di neve si spessifia delle cabine, traliccia e traliccia. Dovrebbero metterle nuove? I soldi dove sono? E intanto, dopo 12 giorni, ancora si spala davanti casa. Siamo qui a Cerchiara, siamo sotto casa di una coppia di anziani, fratello e sorella, hanno 84 anni. Questa stradina è stata allargata dal comune perché c'era un'emergenza, c'era un malato da portare via. La neve però è stata accumulata contro i garage dei due residenti che non possono prendere la legna per riscaldarsi. E poi c'è la storia del nido del focolare di Cerchiara, una casa famiglia fondata da Don Silvio Denunzis, che accoglie da anni bambini dai 0 ai 3 anni, che una famiglia non ce l'hanno. La mamma di tutti loro è suor Caterina. Nel mezzo dell'emergenza neve, i vigili del fuoco le hanno proposto di evacuare con l'elicottero i sette bimbi attualmente ospiti nella struttura. No, è stata la sua risposta, ho bisogno solo di gasolio per riscaldarli. Due di loro sono gravemente disabili ed è più prudente restare qui. Lo spettacolo del gran sasso innevato che si gode da questi paesi è mozzafiato. Nel guardarlo, ora però c'è diffidenza. Ci si sente traditi da questa meraviglia della natura, che non ha risparmiato né le case né le vite della propria gente. Ci vorrà del tempo per fare pace con la loro montagna. Grazie.